un ciao e un grazie ad amelio grazie a te graziana siamo venuti a casa tua siamo in alta italia certo siamo in provincia di verona esattamente castelnuovo del garda tu abiti qua e hai un bel negozio vero è certo tu fai il parrucchiere esatto cosa ti hanno detto i tuoi clienti quando ti hanno rivisto ma quando mi hanno rivisto subito sono rimasti un po di baccalà si dice qua no perché non pensavano che avesse fatto un intervento così quando gli ho spiegato dopo com'è stato ci sono rimasti un po allora all'inizio della nostra chiacchierata tu mi dicevi nessuno conosce gli impianti zigomatici si purtroppo si molti dentisti dai quali raccontamelo tu allora io per caso ho visto questi impianti zigomatici perché prima io non sapevo che esiste allora ho fatto una prova in negozio e ho chiesto ai miei clienti se li conoscevano per vedere se era vero o se era una cosa mia e ho visto che il 99 per cento non li conosceva nessuno non sapevano che esistevano questo non è una bella cosa perché come fai a non a non capire una cosa così è incredibile cioè c'è la tecnologia e uno non lo sa dunque lì bisogna fare informazione perché importantissima allora alcuni dentisti di queste zone ti avevano proposto la protesi raccontami certo sicuramente non c'era nel mio caso non c'era modo loro mi dicevano arriverà in punto che bisogna mettere la protesi perché tu avevi una grave atrofia ossea cioè non avevi osso all'interno del quale inserire impianti impianti normali normali hai dovuto far gli zigomatici certo la parte sopra si nella parte inferiore nella parte inferiore non mi li mettevano lo stesso hai capito mentre cesare me le ha messi cioè allora io dico ma com'è sta cosa te lo sei chiesto me la son chiesto sì tanto e dopo tutto quello che hai fatto cosa hai dedotto ah ho dedotto che c'è chi è più avanti e c'è chi è più indietro beh questo è il punto perché o non può nessuno metterli o possono tutti si dovrebbe essere così invece non è proprio così cioè ci sono quelli bravi e quelli aggiornati e quelli non questa è la realtà di fatti andando alla spezia che è stato il tuo primo incontro certo hai chiesto cosa posso fare esatto e ti han detto con il dottor cesare che guardava le panoramiche tue esatto mi hanno detto guarda si può fare mettere gli impianti zigomatici la parte sopra in più mettere alcuni impianti alcuni impianti normali normali e indossi sotto e così è stato e così ho fatto il risultato è eccezionale si è andata a viareggio si è andata a viareggio è stato un po è stato più faticoso diciamo andare tornare perché sono andato giù quattro cinque volte verona verona è un po lunghetta però non ha valsa la pena lo sapevo anche prima di andare che era lunghetta però cioè era l'unica maniera hai avuto dolore per questo intervento no zero dolore non so cosa sia ma proprio completamente zero è più la paura dell'approccio che il dolore ma in realtà il dolore io non ho sentito dirò di più dirò di più ma avevano detto di prendere gli antidolorifici io li ho presi solo un giorno i primi giorni poi non li ho più presi perché non avevo bisogno quanti che hai fatto l'intervento io l'ho fatto il 9 novembre 2022 quindi siamo già nel 2023 fra un po entriamo in estate tu stai benissimo adesso mastichi adesso un piacere allora ti voglio raccontare questa esperienza la prima cosa che ho notato bellissima è che mi sembrava di avere un bocca non dei denti ma un muro di denti cioè quello che voglio farti capire è la come si può dire la forza la forza della masticatura che prima me la sognavo completamente cioè sono talmente resistenti che è incredibile sta cosa baci cauto e te l'avranno detto ecco ecco pensa tornando indietro pensa che in certi momenti ormai adesso le prime volte andavo cauto adesso e come fossero i tuoi ma è come fossero i miei a volte che l'unico lato negativo è che mi hanno detto di non strappare no invece io sono talmente abituato e me ne sento talmente bene forti che a volte mi scappa magari un panino di strappare e poi mi rendo conto perché sei talmente sicuro che è incredibile è incredibile insomma dall'idea delle protesi all'idea fissa non c'è paragone c'è un altro mondo un altro mondo allora dottor cesare cosa vogliamo dire che seguite a questa testimonianza straordinario cioè bravissimo ma sotto tutti i profili insomma sono trovato benissimo genio per me è un genio noi siamo molto felici che sei contento e siamo contenti di fare informazione questa è importante questa comunicazione serve a chi soffre come te ha sofferto che aveva malattia prodontale quindi più orrea denti che dondolano che cadono e poi più osso e invece poi denti fissi eh sì un altro mondo un altro meno male che c'è questa tecnologia perché se no ero messo male invece adesso si può fare benissimo dai grazie sono contento grazie a meglio grazie a te grazie a te ciao ciao